È stata la prima volta che facevo l'arbitro qui e devo dire che è stato veramente molto bello, per me era tutto quanto nuovo ed è stato molto formativo. Ho visto tantissimi ragazzi molto piccoli avvicinarsi ed erano veramente molto interessati e ho visto soprattutto tanta bella competizione. Adesso scusate ma mi devo mettere a fare i punteggi che i ragazzi ci tengono e le classifiche devono uscire.